Sono Vincenzo dell'L Kitchen Store di Avellino e oggi voglio parlarti di studio di cucina. Studio di cucina è il nostro modo di prendersi cura di te, è il modo con il quale noi progettiamo dalla A alla Z il tuo sogno, cioè la tua cucina, per renderla l'ambiente più bello, più vissuto, ma anche e soprattutto più fruibile di tutta la tua casa. In studio di cucina abbiamo trasferito tutta la nostra esperienza degli ultimi dieci anni e soprattutto inserita tutta la nostra esperienza nelle centinaia di progettazioni che abbiamo già seguito fino ad oggi nel mondo di L Kitchen. Studio di cucina quindi è il nostro fiore all'occhiello e io sarei felice di mostrartelo, ti basterà semplicemente cliccare sul link che trovi sotto questo video e raggiungere la pagina dedicata dove ti racconteremo nei dettagli cosa faremo per te e per rendere il tuo progetto cucina il tuo sogno.